E' una partita importante, sembra superfluo, è un'altra sfida davvero intensa, quella che ci aspetta. Presidente, dire che i tifosi sono importanti lo ricordiamo ancora per l'ennesima volta, quindi sabato, anche perché ci sono di fronte due squadre che danno garanzia di spettacolo. Sabato sarà una bella partita di pallavolo, dovrebbe essere tale, giusto? Ma sai, sono due squadre con dei giocatori importanti, loro quest'anno forse un po' più di noi, hanno arrestito una squadra con delle ambizioni importanti, di passaggio di categoria, eccetera. Da parte nostra, io proprio stasera ho detto alle ragazze di farmi dimenticare l'altra partita di sabato scorso, in cui veramente non c'era uscito praticamente quasi nulla in attacco soprattutto. Sicuramente non è che partiamo qui con i favori del pronostico sabato contro una squadra con giocatori di questo carico. Però io sono convinto che con determinazione e voglia di riscatto le ragazze possano fare una bella partita.